Grazie a tutti Te lo fai! Posso? 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 Presa! C'è la maniglia Spampi! Meno male che c'è la maniglia! e mo e 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 ma non mi è scivolata la gomma ma fa culo ah 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 ma che lì alla scarpa va giù la catena e stai di là ah 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 o ah ah ho detto che era meglio di lì la tua di terza però dargli tanto però devi dargli forte perché gli ho dato ma non abbastanza si devi cedere da lì ma va è uguale uguale a quella di là tanto ci sono le piante che ti attacchi devi rifarla hai visto che amici 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 ma alla fine ti hanno lasciato giù sotto e basta è che adesso non ciò perciò prima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti